Ciao e benvenuti! Nella versione 2018-2019 l'Assassin è cambiata. Come i più nerd di voi avranno notato, c'è stata l'introduzione di una leggera direzionalità, quindi un setback delle boccole, una punta più lunga e una coda più corta, per ovvi motivi che sinceramente approvo al 100%. Intanto la tavola è andata a collocarsi marcatamente su un segmento all-mountain versatile, è una tavola capace di prestazioni eccezionali fuori pista, in pista e garantisce ottima stabilità e ottima facilità anche in parca e sui trick. Questa direzionalità aumenta il galeggiamento in fresca, aumenta la stabilità quando alzate le velocità e sicuramente aumenta anche l'aggressività in ingresso e uscita di curva per avere una tavola capace anche di carvare come modelli di solito tendenzialmente più difficili. Uno dei grandi pregi di questa tavola è quello di avere performance eccezionali pur rimanendo molto facile e molto docile sotto i piedi. Ci avranno studiato come i matti in Salomon, alla fine ci sono saltati fuori, come hanno fatto? Hanno piazzato degli inserti in carbonio Y in punta e in coda, in modo che le zone di transizione dal tuo piede al punto di contatto con la neve siano rinforzate, siano come un binario unico di trasmissione della tua forza e del tuo peso. La zona centrale è stata lasciata un pelo più scarica per lasciare la tavola molto molto flessibile, per avere una sensibilità tra i due piedi eccezionale. Delle aste in bambù sono state piazzate più o meno a questa altezza per collegare, per diciamo omogenizzare il flex tra le varie zone della tavola. La costruzione popster che vede invece sezioni più spesse sotto gli attacchi e più sottile ai lati consente di avere un'armonicità di flex e di ritorno dell'energia veramente eccezionale. Top sheet in bambù, fianchetti in sughero, come detto materiali veramente eccellenti per questa tavola. A chi consiglio questa tavola? Praticamente a tutti, tutti quelli che vogliono una tavola top di gamma, di altissimo valore, che sia in grado di cavarsela senza fare una piega nella giornata classica di ognuno di noi, che è arrivo, mi faccio due piste per scaldarmi, se c'è un po' di fuori pista mi ci butto tranquillamente, faccio qualche curva più aggressiva, se c'è un park mi butto su qualche salto. Insomma, qualsiasi situazione capiti sotto i piedi, lei è capace di saltarci fuori senza fare una piega. Potete provarla tranquillamente in molte delle nostre uscite, dato un occhio sul sito nella sezione viaggi, nella sezione travel. Se avete domande potete farcele tranquillamente su tutti i nostri canali social, nei commenti qua sotto oppure per email, siamo discretamente veloci a rispondere. A presto e boom!